Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport, angolo pallacanestro, questa settimana raddoppiamo perché è il giorno di Virtus Bologna a Monaco, sfida decisiva stasera per continuare la caccia a una delle prime quattro posizioni della classifica per la squadra di coach banchi, ieri sera però c'era una partita molto dedicata, molto difficile per l'Olimpia Milano, vista che si vedeva opposta a Milano, al forum, al Real Madrid capolista, con solo tre sconfitte fino a questo momento e bene le sconfitte sono diventate quattro perché come sapete Milano invece ha vinto, vinto 81 a 76, una bella vittoria contro un'avversaria forte che sicuramente non è stata però in una delle sue serate migliori, sicuramente la partita aveva un livello di importanza molto diverso per le due formazioni, per il Real contava il giusto, abbastanza poco, per l'Olimpia invece è una delle ultime occasioni per continuare a rimanere attaccati al sogno di centrare almeno la qualificazione al play-in. Io non direi, ho letto cose rapidamente di la partita del rimpianto, l'Olimpia ha giocato sostanzialmente la stessa tipo di paracanestro che gioca in altre gare, è stata molto determinata, mi è piaciuto da un punto di vista emotivo perché come nelle altre occasioni dopo un gran primo tempo nel quale ha preso anche una ventina di punti di vantaggio, si è fatta rimontare, il Real è arrivato a un possesso di distanza dalla formazione milanese però non è riuscita, in quel caso l'Olimpia è riuscita a trovare comunque le risorse e le forze per tenere dietro gli avversari molto molto quotati del Real Madrid. Il Real credo abbia perso la partita nei primi minuti, è uscito, eravamo attorno a metà del primo quarto, una statistica, l'Olimpia aveva 1 di valutazione, generale il Real 19 con un disavanzo così netto però i punti di scarto erano 4-5. Il Real è stato molto tenero, non è stato il solito Real cattivo, il solito Real che azzanna la preta, nonostante questo è andato sotto nettamente nel primo tempo, nel secondo tempo ha saputo riaprire la partita, l'Olimpia nel primo tempo è partita malissimo con Napierre in quintetto, Napierre non mi piaceva l'anno scorso, quest'anno mi piace se possibile ancora di meno di quanto già non mi piacesse nella stagione scorsa, molto meglio quando è entrato Maudolò e proprio Maudolò ha guidato con un'ottima regia la fuga che si è rivelata poi essere quella decisiva. L'Olimpia con gerarchie chiare, due giocatori, due terminali, Shevon Shields e Mirotic che hanno preso tantissime conclusioni, hanno stato 50 punti in due, sono stati molto molto efficaci, in particolare Mirotic quando è entrato in campo all'inizio il suo primo ingresso sul terreno di gioco, molto preciso nel tiro da 3 punti, l'Olimpia è una squadra che non gioca per un basket particolarmente scintillante, però nasce e muore, vive e muore con la sua percentuale del tiro da 3 e nel secondo quarto soprattutto dove è stata precisissima, lì ha costruito il vantaggio molto largo con il quale è andata all'intervallo lungo. L'altro elemento che è stato veramente importante in questa sfida, il controllo dei tabelloni. Contro una squadra di tonnellaggio elevato contro il Real, l'Olimpia è stata veramente molto brava perché ha chiuso con 40 rimbalzi, tipo una decina più degli avversari e soprattutto ne ha preso 15 in attacco, 15 rimbalzi offensivi, in particolare nel secondo quarto costruendo azioni con doppi, tripli possessi perché riusciva ad andare sempre a recuperare il pallone sotto la plancia avversaria. Ha difeso un po' la Maccabi con qualche rischio andando sulle linee di passaggio e proprio lì Schilt ha fatto un'altra delle cose molto importanti della sua partita perché il Real era in un parziale con il quale si stava ulteriormente avvicinando, Schilt si è rischiato, è uscito su un blocco, ha intercettato un passaggio, è andato a segnare un canesso in contropiede, veramente molto importante e nel finale è stato molto freddo lui, anche se poi ha preso un fallo tecnico che però seguiva un altro fallo tecnico dato ai giocatori del Real Madrid, un po' forse severo e Schilt è stato bravo, bravo in questa partita e Mirotic è stato molto freddo anche in quei minuti finali di gara. Vedere i giocatori del Real che protestano è sempre abbastanza sorprendente, visto quello che siamo abituati, così come Yabusele, un giocatore che purtroppo ai miei occhi resterà sempre l'uomo della garrotta a giocatori del Partizan della stagione scorsa e ha giocato una partita anche per lui piuttosto complicata. Real ha fatto fatica, ha fatto fatica anche sotto canestro, Tavares e Poirier, questi due giocatori altissimi, fortissimi, sono stati ben contenuti, hanno una difesa molto attenta, Kailanis ha giocato una partita da scuola, come sempre, da far vedere ai giovani giocatori per tutto quello che si può fare di utile su un campo di gioco, mi è piaciuto tantissimo, come ha detto, Maudulome, Gruder ha continuato a dare un buon apporto alla causa, anche in queste sue entrate un po' ancora morbide verso il canestro, Hall, parecchi minuti in campo e molto positivi, è stata una Olimpia buona, valida, un'Olimpia che stavolta ha saputo resistere alla classica rimonta delle squadre avversarie, un'Olimpia che si presenta ora a questa lunga pausa che ci sarà nell'Eurolega perché si torna a giocare il 29 febbraio e il primo di marzo, quindi siamo praticamente tra tre settimane perché ci sono le Coppe Italia, ci sono le nazionali, c'è un po' di le Coppe nazionali, le nazionali, c'è un po' di tutto, quindi il torneo va un po' a prolungarsi nell'attesa delle prossime partite, successo molto importante, come dicevamo questo, che mantiene ancora le possibilità per la squadra milanese di cercare di andare ad agguantare ancora la posizione nei play-in. Vittoria che, ripeto, non mi ha sorpreso sostanzialmente, l'Olimpia in questi anni ci ha abituato tante volte a grandi prestazioni contro le squadre migliori, salvo poi magari non avere continuità in partite contro squadre più deboli, perché quest'anno sta mancando soprattutto il rendimento esterno per la squadra di Coach Messina, francamente è un successo che non mi ha sorpreso per niente ed è stato un successo comunque sicuramente molto molto meritato. Fatemi sapere ragazzi come vi è sembrata questa partita, cosa ne pensate, prospettive, credete ancora nella possibilità per Milano di andare alla post-season, vediamo stasera Virtus contro Monaco, una partita veramente molto molto interessante, io vi ringrazio, iscrivetevi al canale, fate iscrivervi ai vostri amici, aumentiamo la nostra comunità, alla prossima, ciao a tutti e un bacio da ROX, ciao!